Hello bell guys, dopo una settimana dallo svolgimento della seconda edizione della Dragon Cup, oggi vi porto la decklist vincitrice dell'evento assieme al vincitore appunto della Dragon Cup, ossia l'Air Tattico che puoi salutare nel caso. Ciao a tutti, ciao a tutti. Quindi abbiamo attenzione su Discord, quindi innanzitutto complimenti per la vittoria che era su ben 10 persone che se non erro si è andato 4-0 più finale vinta 2-1, giusto? Esatto, esatto. Ok, quindi ora vedremo assieme la decklist, poi faccio commentare l'evento un po' sull'andamento del torneo, è tutto, vediamo la decklist, è tutto, ma prima di continuare come al solito, se ti piacciono contenuti retroformat come Edison, Tango Plant, Ato, Unboxing di prodotti vintage, indirenti e formati citati, iscriviti al canale, lascia un mi piace ed un commento, costa pochissimo del tuo tempo, ma aiuterà un sacco il mio lavoro. Quindi, tornando a noi, allora l'evento, come è andato questo torneino, questa Dragon Cup che veramente era più numerosa del solito, ma siamo contenti così. Vabbè, è andata bene. Vabbè, senti, c'hai vinto. Giustamente. Vabbè, non ha avuto grossissimi problemi, se non contro Hero Frog a turno 2, che vabbè, Frog è un mazzo che non sopporto, quindi... Vabbè, si commenta un po' da solo, Hero Frog, cioè già Frog di per sé rompe, diciamo, una determinata parte del corpo umano, poi assima Hero non ha perso il dovere, insomma. Anche Hero comunque è in engine 4. È molto forte, Hero. Allora, di base, Alecris, come potete vedere, a primo impatto può sembrare normale, tranne per alcune carte che, per l'appunto, si può dire un po' è stata una tecnica bastardina dell'inserire la side già quasi a primo turno, in un certo senso, cioè nella main list. Sì, sì. L'idea era di essere, appunto, più imprevedibile rispetto a un Hero Beat classico, così non permetterà all'avversario di avere troppi riferimenti. Anche a turno 1. Infatti poi ci saranno alcune carte che ti chiederò come mai ho voluto uscire, perché effettivamente sono, diciamo, fuori dalla normalità di Hero Beat, però appunto ci arriviamo pian piano. Allora, come vediamo, giochi monostratos, giustamente, chissà perché uno, tipo Alios, senza che lo commentiamo, e poi, diciamo, questo che può sembrare strano, però come mai hai scelto di giocare due oceano e mono snowman e non, diciamo, il contrario che è quello che si vede ultimamente, quindi mono oceano e due snowman? Sì, molti utilizzano solitamente due snowman e un oceano, ma a me oceano piace davvero, davvero tanto, perché se magari uno lo devo, ad esempio, ho doppia miracolo in mano e ho stratos, mi addo oceano, posso fare già la miracolo, però non avrei il secondo oceano per poter grindare. Perché oceano ha il, la sua forza non è tanto nell'essere un bittone, perché non è grosso, ma il fatto che tu puoi poggiarlo sul terreno, aspettare che l'avversario lo attacchi, perché deve assolutamente rimuoverlo, se non vuole che inizi a plussare all'infinito, e te a quel punto ti basta usare una prison, una bottomless, e riesci a difenderlo, quindi deve andare con cose più pesanti. Ok, poi visto che giochi anche, che ultimamente non si vede più nel liste Hero, il Capitano Gold, vabbè, con Nannis, il grattacielo, questo è per andare sopra i bittoni. Sì, esatto, alla fine, essendo Hero Beat puro, cioè non ho accesso a Isynchro come invece ce l'ha Diva Hero Beat, quindi preferisco avere loro due, che sono searchabili, quindi se ne ho bisogno posso tranquillamente utilizzare Stratos per searcharmi Capitano Gold, e mi permette di passare soprattutto sopra i Blackwing, che scirocco, è un problema quella carta. Maledetto mazzo. Poi diciamo, la carta che, diciamo, più mi ha colpito all'interno del mazzo, non è una delle trappole, ma paradossalmente il Gords, perché di base nella mia testa, e dato che, diciamo, Hero tende a settare un sacco, carte come Hivistor, o per l'appunto Gords, sono quel, diciamo, quel fatto che è difficile che lo calo, mentre mi pare aver visto anche, mentre registravo in live, hai calato anche abbastanza spesso il Gords, sbaglio? Sì, sì, no, quando capita, allora, di primo turno, se capita, è forte comunque, perché io posso, se magari ho una mano che non è particolarmente forte, magari vorrei aspettare, ad esempio, di trovare una Spark per poter calare Aglius poi, posso aspettare, e l'avversario, se vede che non ha setto niente, inizia a farsi qualche domanda, e a volte magari non attaccano addirittura, oppure se mi attaccano gli calo un Gords, e diventa un problema, devono giocarci sicuramente almeno una o due carte forti per toglierlo. E a late game, ma anche forte, perché se magari siamo a top deck, se ho ancora una discreta quantità di life points, l'avversario evoca un mostro, mi picchia, calo Gords, e la partita è bella che conclusa. E poi la giocata forte, se può essere anche Aglius, setto Gemini, diciamo, spacchi quella sul terreno, ti fai attaccare, tra virgolette, apposta diretta, c'è il vantaggio terreno col Gords e col token, che è abbastanza abbastardata, ma un'ottima strategia. di base. No, no, ci sono tante combinazioni che puoi fare con Gords. Peccato che non ci sta quella fusione Nero, quella con gli oscurità, se no, mi sembra ancora più figa. Arriverà più avanti. Poi diciamo, una carta che io apprezzo un sacco, e non capisco perché la gente non la giochi, e infatti tu la giochi di uno di me, nel Pachicefalo, che veramente si può dire l'infamata delle infamate, ma in senso positivo. Sì, sì, Pachicefalo, il Nero Beat puro, secondo me, calza pennello, perché l'unica cosa che ti può andare a bloccare è la Miracolo, ma ovviamente se hai Pachicefalo e Miracolo non cali una delle due. Beh, infatti ti fai le domande prima di farlo. Esattamente, e inoltre Pachicefalo è fortissimo perché anche da settato a Mirror Match, se l'avversario ti fa Absolute Zero, te lo picchia, coppia tutto. Quindi è molto versatile. Poi comunque a me piace giocare appunto queste tecce di main per partire avvantaggiato contro i matchup più fastidiosi, che sono appunto magari VayuTurbo e FrogMonarch. Beh, onestissimi, onestissimi. Poi vabbè, onesto diciamo, si commenta anche da solo, che lo ripeterò in ogni video, si chiama onesto, ma per me è la carta più disonesta all'interno di sto formato. Posso confermare. E poi vabbè, talpozzo diciamo che un po' per la stessa ragione immagino del Pachicefalo, dato che vabbè, è un terra quindi anche target per Gaia, però puoi ottenere sempre il vantaggio terreno una volta, anche soprattutto se parti primo con, non so, ti piazzi tiro e poi fammi il talpozzo schifo immagino. Sì, sì, beh, è fortissimo perché magari di turno, cioè, a inizio partita iniziano a settare i mostri perché vogliono risolvere un rico, perché ne hanno bisogno i mazzi che macinano tanto, e te inizi a fare talpa loop e loro devono per forza calarci qualcosa. E poi te puoi andare, cioè, ti permette di recuperare quei due turni, quei due o tre turni, per poter magari avere delle pescate forti e togliere il mostro senza aver bisogno per forza di talpa. Poi ricordiamo, Rigo, anche una delle carte più giocate all'interno del formato, quindi le probabilità di trovarlo sono altissime. Assieme al, vabbè, qualsiasi flip monster come il Crici, Rigo, lo sono me stesso in Mirror Match. Sì, va a rimuovere anche tutti i mostri sincroni, fa più uno contro zero assoluto, quindi, cioè, è una carta mandatoria in questo mazzo, però. Ok, poi, vabbè, diciamo, reparto magie, vorrei evitarlo quasi di commentare, visto che è abbastanza staple. Tutto staple. Sì, alla fine alcuni hero beat, ho visto che nell'ultimo periodo, fanno pure due miri a goal fusion, anziché tre, però, ovviamente, i target ci stanno, io preferisco. Vabbè, Typhoon e, vabbè, grattacielo, non lo compro, ce l'abbiamo già visto prima, lo giochi se c'è i gold di base, altrimenti è difficile vederlo. Vabbè, trappole, abbiamo ancora i bottomless, Call of the Haunted, Dark Bride, immagino per avere un parino in più contro Icaro, Ivi Storm. Sì, esatto, l'idea di Dark Bride, alla fine è una counter trap, quindi già per questo è qualche forte. Dark Bride, con solennio, è sette attrezzi del bandito, mi pare ci sia tanto altro in Edison. E poi, comunque, è un out in più a Ivi Storm, che può essere molto pericolosa se magari parti con una mano molto forte a livello di trappole, ma pochi mostri, le vuoi settare tutte, e se ti fanno Ivi Storm almeno hai un parino in più. E poi se posso chiedere, come mai hai deciso magari di giocare la Dark Bride, anziché la seconda Starlight, come fanno alcuni, dato che obiettivamente Blackwing è il mazzo, diciamo, spammato all'interno del formato, assieme all'attacco Icaro, come mai questa preferenza sulla Dark Bride, ecco? Alla fine, Bride è più versatile rispetto alla Starlight. È vero che Starlight, cioè, se risolve, al 80% hai vinto la partita. Però è anche più difficile farla risolvere, e soprattutto, contro a Iro, quindi nel Mirror Match, diventa inutile la Starlight Road, perché Gemini Spart, Iro Blast, sono tutte carte che spaccano uno. Quindi te preferisci, almeno io preferisco, avere Mono Bribe e Mono Starlight, per appunto avere dei parini in più. Anche se magari voglio provare a chiudere la partita, ma ho paura di una Prison, di una Bottomless, allora con la Bribe posso permettermi di provare, con la Starlight Road invece preferisco giocare più safe, perché non potrei farcela. E poi... Adesso la side la metti, eventualmente, in caso di Blackwing. Esatto, esatto. La seconda Starlight la metto solamente contro Blackwing, perché, appunto, l'acqua Icaro esiste, quindi... Troppo esiste. Ci vuole delle risposte. Forse semi-limitato o limitato, io sarei super contento pure per Blackwing, l'hai detto? Ah beh. A due sarebbe giusto. Due sì, poi... Eh. Calut male, ormai quelle sarebbero le carte da top per Blackwing, poi... Sì, sì, sì. Però, opinione personale. Mortece Nero e Calut sono le due carte più forti del massimo. Vabbè, due Prison, due Hero Blast, che ricordiamo possono funzionare anche senza veramente spaccare. Mirror Force, poi la carta un po' questa, diciamo, la carta che un po' spunta nel reparto trappola, la trappola in the rank. Ma è questa scelta. Faccio sempre per Monarch. Sì, allora, il motivo principale è Monarch, senz'altro, perché comunque Kaius è ancora una carta molto giocata in molti deck. E poi, in Edison, gli anti-monarchi sono... Eh, po', davvero, davvero... Difficilmente qualcuno la gioca, Araldo, la cosa è solo fatta, il Veiler non c'è. E poi, inoltre, è un po' Metacall per tutte le dive che girano ultimamente. Diva Hero Beat, comunque, è il mazzo che ha avuto più top e ha avuto più gioco nell'ultimo periodo nei grossi tornei online. Quindi, ho deciso perché no. Proviamola. E devo dire che, comunque, è stata molto forte nel torneo. Non tanto per le dive, ma più che altro per le macchine a gear frame. Perché facevano norma. Effettivamente questo giorno erano due o tre, se non erro. Eh, sì, ce ne erano due e li ho beccati tutti e due io. Uno in finale, l'altro a turno quattro. E poi, aneddoto divertente, c'è stato uno dei ragazzi che mi ha accortato prima, voleva dei feedback sulla lista. E mi andava chiesto, vabbè, ma quanti macchine a gear frame ci saranno all'interno del torneo? Io che non potevo di niente, giustamente. Troppi, troppi. Infatti, poi, io ho scritto in prima, ho detto, ah, vedi, ce ne sanno ben più di due, forse. Vabbè, poi abbiamo Solenne, Starlight, Torrential Trip e la Dacia. Solenne, l'ho realizzato, ce l'ho da Legenda Recollection adesso, Secret. Ah, ma gli alino, quindi ce l'ha anche in real, sto mazzo, diciamo così. Sì, 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 tutto real e non realizzato alla massima, ma poca roba common, ecco. Non pare come me che sto cercando di fare X-Dragon alla massima. Ai, ai, ai. Eh, mi mancano solo i Graefer. Quindi c'è il Dada Ultimate. Aia. 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 Eh, quella carta. Quella carta, Ultimate. Eh, troppo. Vabbè, extra. Chiamo quasi di commentarlo, perché diciamo un po' fa riferimento alla side, come hai detto prima, in inizio di video. Ah, sì, letta. È quello. Questi quali giochi, perché se non c'è un Igaia. Io sono, ovviamente, con lo Stardust, quelli che per accalare. Chi era te? Per side, quindi andiamo subito alla side a vederla. Luce consacrata. Luce consacrata. Luce consacrata. Non so quasi da sola. Sì, io inizialmente non la giocavo, però ho deciso di darle una possibilità, perché soprattutto non ho molta side contro Blackwing. Quindi ho detto proviamola. E devo dire che è la carta più forte del formato contro Blackwing. Non... Probabilmente sì. La cali, la cali. E lui non fa niente. Cioè, setta mostri, taglieli picchi, setta mostri, taglieli... e non fa nient'altro. È stata confermata. Veramente. Vabbè, Cyber Drago. Immagino se si è rivelato utile contro i mazzi di macchina. È stato discreto, dai, è discreto. No, vabbè, è fortissimo, quindi. Poi comunque è un 2100, anche contro Blackwing lo vado a giocare per passare sopra Sirocco. Beh, si, Sirocco. D.D.Crew è, penso, la carta più giocata all'interno di Edison, ma anche Tengu Plant a livello di side, perché, vabbè, è brutto. Eh, sì. D.D.Crew ultimamente sta anche un po' uscendo, in realtà, dalle side, però, secondo me, è una carta, cioè, fortissima, quindi non se lo merita. Poi, comunque, va a dare fastidio a tutti i mazzi che giocano Potofavaris, va a dar fastidio a Drago, va a dar fastidio a Hero, va a dar fastidio a Frog, anche se dici, vabbè, c'ha due rane. Vabbè, ma io ho comunque tre out alle rane, quindi D.D.Crew è forte. Poi contro Vaglio Turbo pure, il maledetto. Sì. Vabbè, Pachicefalo, motivo di prima, Heavy Storm, di side, comprensibile, visto, diciamo, il numero. Comparto Trappole, in caso che, Maggiro contro Mirror. OBS all'improvviso ha smesso di funzionare e registrare, giustamente l'Air Tattico è andato via per un impegno personale, ma per farvela breve, per quanto ci siamo detti, la cosa che può spuntare un po' all'occhio è il fatto che le carte all'interno del side siano, diciamo, in monocopia e, diciamo, di base lui ha preferito avere una versatilità maggiore rispetto, diciamo, a una stessa carta che abbia quell'effetto di base. Quindi, carte che diano lo stesso fastidio all'avversario ma con, appunto, diverso effetto, che sì, è un po' più visitazionale ma, appunto, è un tipo di approccio diverso. Ma la sua carta preferita all'interno del side deck, appunto, è stata Skill Drain che, letteralmente, gli ha fatto vincere la maggior parte delle partite. Questa è la lista di Air Tattico. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e, soprattutto, per aver partecipato al torneo a tutti i partecipanti e spero di avere nuove partecipazioni alla prossima edizione. Potrebbero esserci nuove novità ma vi farò sapere fra un po', non appena è postato. Vi ringrazio ancora e arrivederci al prossimo video. See you next time! Grazie!